Questo è un progetto introduttivo, sperimentale e innovativo. Noi abbiamo chiesto ai cittadini e alle cittadine della provincia di Teramo cosa li rendesse felici e lo studio ha dimostrato che il reddito, quindi la situazione economica, non è al primo posto. Cioè le principali determinanti che guidano la soddisfazione personale e la felicità sono le relazioni sociali, in primis la famiglia e la salute. Questi sono i due principali driver che dall'alto confermano alcuni risultati che la letteratura ha evidenziato da molti anni. Cioè le relazioni sociali sono veramente il principale motore della nostra felicità. Ma emerge interessante come la salute per tutte le fasce di età del campione emerga come elemento, come bene primario di percezione della felicità. Per quanto riguarda avete messo a confronto con quello dell'Istat, a carattere nazionale Teramo come è messa? Ecco, diciamo che Teramo rispetto allo scacchiere nazionale appare come una sorta di luce ombre, nel senso che c'è un gap significativo in termini economici rispetto alle province più importanti, mentre se andiamo a guardare le risorse immateriali, quindi tutti questi fattori che caratterizzano ciò a cui noi teniamo, Teramo recupera molte posizioni. Addirittura la provincia di Teramo recupera 50 posizioni nella graduatoria nazionale e la terza provincia con la migliore performance quando noi passiamo da indicatori economici a indicatori immateriali. E questo chiaramente solleva un grande obiettivo, cioè come poter coniugare la visione di una crescita economica che punta sia all'efficienza e alla produttività, ma allo stesso tempo riconosca dignità alla persona. In tema di relazioni sociali, non so se avete dato in tal senso, come ha influito la pandemia? Allora, la pandemia indubbiamente ha rappresentato un elemento centrale, soprattutto perché con il lockdown ci ha privato di due grandi beni fondamentali, cioè la salute e le relazioni sociali. Probabilmente oggi più che mai ci rendiamo conto della centralità e dell'importanza di questi fattori. Quello che a noi ci coglie un po' di sorpresa è che per la prima volta in queste indagini la salute viene percepita come un bene primario dai più giovani, cosa che notoriamente prima non avveniva. Grazie.